Il suo nome è Nicole Johnson, è una donna di 33 anni di età, del Maryland, Stati Uniti d'America ed è stata arrestata di recente dopo che agenti della polizia americana hanno ritrovato nel suo bagagliaio i nipoti di 5 e di 7 anni di età. Maschietto e femmina, questi sono i generi sessuali di appartenenza, scoperti quasi per caso dopo che la donna è stata fermata ad un posto di blocco proprio dalla polizia perché aveva una velocità troppo elevata, una velocità eccessiva. I poliziotti sono avvicinati all'automobile, hanno percepito un odore piuttosto agro, hanno fatto dei controlli aggiuntivi e hanno scoperto i cadavere dei bimbi, l'odore era nauseabondo. Stando a quello che è riportato sul web era veramente devastante, hanno fatto la dovuta scoperta e si trattava appunto grazie all'analisi compiuta che era Jocelyn Johnson di 7 anni e Larry O'Neill di 5, nipoti, nipotini della donna in questione. La donna ha fatto sapere che si sta prendendo cura di nipoti ed ecco come si è presa cura di nipoti, si è presa cura di nipoti andandovi a uscire a farli fuori. Mi ha presi cura molto di questi nipoti, vero? La donna vi ricordo che è di colore, non la conto che è di colore sia vecchia. Da Reandro, narratore italiano di Roma è tutto, iscrivetevi al canale, narratore italiano ovviamente si intitola così, spolliciate per te un bel mi piace e adesso la donna dovrà entrare in un carcere. La donna si chiama Nicola Johnson, vediamo quello che succederà in futuro. Ciao a tutti e a Reandro, al prossimo video.